Il Network di Grande di Milano è interessante per la sua caratteristica di essere trasversale rispetto alla cultura, rispetto alla società, rispetto alla politica e rispetto alla rete delle imprese. Io ho trovato molto interessante, normalmente sono un po' scettico rispetto a questo tipo di iniziative, invece ho trovato molto interessante l'ambiente, le personalità e le professionalità che ho trovato in questa rete e credo che sia un'iniziativa assolutamente fondamentale e utile da perseguire e da sostenere nel tempo.